C'è sto tipo nudo che sta andando in giro ad attaccare tutto e tutti. Non so effettivamente quale sia il suo obiettivo. Guardalo là che sta cercando di fuggire. Secondo me crepa. C'è casa mia là. Guardalo, guardalo. Sta cercando di crepare. Ti prego muori così ti aiuto. Ma poi perché stai attaccando tutti? È quello che non capisco. Beh, proviamo ad aiutarlo. Almeno mi faccio un obiettivo. Hanno messo una bara come oggetto gratuito. Direi di prenderlo. Finalmente ci rincontriamo, sovrintendente. Ne è passata di acqua sotto i ponti, vero? E questa volta tu mi guarderai in faccia. O giuro che questa accetta te la infilo nel collo. Com'è andata con i coloni? Nutrire sospetti sugli sconosciuti sarebbe più che lecito. Accetteranno il nostro aiuto? Dio mio io ti ammazzo, sappilo. Intendi i parassiti che beneficiano del mio lavoro? Quello sì. Va bene, guarda. Hanno accettato. Dammi sto vaccino e facciamola finita. Bene, sapevo di poter contare su di te. Ho provato a capire dove produrre grandi quantità di vaccino. Alcune tra le scelte più ovvie sono impraticabili. Perché sono pieni di nemici? E ti chiedessi chi potrebbe produrre enormi quantità di liquido appositamente formulato in contenitori sterili? La confraternita? Una risposta è ovvia. Abbiamo sia intelligenza che percezione. Andiamo di intelligenza, va? Esatto. Geniale, vero? Geniale. L'impianto locale ha tutto l'equipaggiamento per la creazione di bevande sperimentali. Ottimo. L'ideale per il nostro vaccino. Gli occupanti attuali tuttavia mi hanno dato dei problemi. Potrebbe servirmi il tuo aiuto. Ci vediamo là? Guarda, spero che ti sparino. E sto tizio chi è? Ma... C'è qualcuno? Attento, ci sono i super mutanti. Non crepare, tu che sei di livello 28, eh. Beh. Devo dire che è uno scontro abbastanza la pari, eh. È uno scontro abbastanza la pari anche con le armi mini, eh. Vediamo con l'attacco potente. Beh, beh, beh. Diciamo che con 10 di forza un attacco melee fa un bel po' di danno. Ehi, là? Ah, ok. Lui non è cattivo. Ehi, buongiorno. Che ci fa? Hai qualche sostanza? Senza le medicine non mi sento a posto. Quando assumo dei tripper ogni giorno è un gran giorno. Duh. Mi fa piacere per te. Purtroppo lo psycho mi sa che non è una bella opzione. Potrei darti un aiuto? Niente, eh. E comunque non provare a fregarmi. Eh, vabbè. Non vuoi il mio aiuto. Che bella la tua maschera. Peccato che ammazzarvi non mi dà i vostri oggetti. Quella maschera era bellissima. Chissà se c'è un'abilità che rigenera lentamente, ma proprio anche lentamente, la salute. Sarebbe molto utile. Oh no. Soprintendente. Aspetti. Ah no, era una torretta. Vabbè. Meglio di niente. Eccoci arrivati alla fabbrica della Nuka Cola. È incredibile che in Fallout in ogni luogo che vai c'è sempre una fabbrica di Nuka Cola o Sunset Salsa Salsista. Quello però solo in New Vegas. Guarda come tiene bene quell'ascia. Ehi là. C'è nessuno? Eccola. Salve. Buongiorno. Dobbiamo alimentare l'impianto e riprogrammare le macchine per produrre il vaccino. Accendere tutto e non farci ammazzare. Mi sembra un piano, no? Fammi indovinare però. Tu non verrai con me, vero? Dovrò andare da solo? È probabile. No, invece si muove. Complimenti. Eccoli là, infatti. Il tutto potrebbe esserci. I ghoul perlomeno con questa pistola li fai. Il problema sono gli altri tipi di nemici che hanno tutti i tipi di protezione. Ehi là, buongiorno. Per fortuna che faccio il 2.15 di danno. Gli scienziati della Nuka-Cola volevano usare tutti i tipi di protezione e produrre nuovi gusti. Ecco come inganneremo il sistema e produrremo il vaccino. Mettendoci dentro roba? Dobbiamo soltanto fare come miscelare ingredienti per una bibita e produrre anticorpi. Facile, no? Minchia. Meglio di così. Quindi, come si fa ad attivare questo scanner? Mi ci devo infilare dentro? Ma che davvero? Cioè, diventerò io il gusto della Nuka-Cola? Questo mi stai dicendo? Va bene. Così abbiamo aggiunto un tuo campione di sangue come ingrediente. Tecnicamente questo ti rende il nuovo gusto Nuka-Cola. Visto, l'ha detto anche lei. Ok, fai finta che non ti abbia... No, no, l'ho detto anch'io, pensa. Va bene. Sequenziatore sapori di Nuka-Cola. Mi ricorda l'attrezzatura del centro agricolo a volte. Intelligenza, percezione... Fammi sapere se vuoi il cambio. No, no, no. Ce la posso fare. Allora, abbiamo intelligenza 6, percezione 5. Per fortuna che c'ho ancora un paio di Mentats. Intelligenza 8. Ottimo. Devo aumentare intelligenza. Fatto. Aha. Ora dobbiamo solo riavviare il reattore e riuscire a produrre il nostro vaccino. Certo, signora. Tutto quello che vuole. Meno male che questo posto era pieno di cose di ogni tipo, eh. Abbiamo incontrato sì e no tre ghoul, di cui 4-1 adesso. Ecco qua il tuo reattore. Questa pistola contro i ghoul può essere ancora utile. Ma fammi capire. Stiamo facendo un vaccino che si inietta o un vaccino che si beve a questo punto? Sai che... Cioè, per come è strutturata la cosa, visto che siamo in un impianto di Nuka-Cola, potremmo anche veramente distribuire bottiglie di vaccino, praticamente. Allora, lì c'è un piccolo ghoul un po' confuso. Ma... Ora morto. Non c'è nessuno. Sì, eh... Il fatto che lei ha gridato ha attirato gente. Non vorrei dirlo, eh, però... Ho provato a farli ripartire, ma i reattori sono morti. I punti di potenza sono morti. Mettiamoci scassinatore e apriamo questa bella serratura di livello 2. Facile. Niente di eccezionale. Un nucleo di fusione che pesa 3, cazzo. Guarda, vedo solo quanto è di percentuale. Se è al 100% lo tengo. È al 25%. Cosa me ne devo fare? Ma io perché ho ancora tutti questi nuclei di fusione? Ecco perché peso tantissimo. Il problema è che i nuclei di fusione non se li compra neanche nessuno. Qua c'è un'entrata per un nucleo di fusione. Se mi dicono di inserirne uno, porca miseria. Meno male che c'ho quelli che hanno poca batteria. Allora, vediamo. Intelligenza. Peccato che mi è appena scaduta. Sostituisci i giunti di potenza. Oppure fortuna 8. Metti insieme cose a caso. Vabbè, giustamente. Se provo a sostituire... Non possiedi tre giunti di potenza. Ok. Giunto di potenza numero 1. Giunto di potenza numero 2. Ecco fatto. Semplice. Ed ecco il terzo giunto di potenza. Tutti i pezzi che ti servivano. Ottimo lavoro. Sarà sufficiente ad alimentare i macchinari più grossi. Eh, speriamo. La cosa interessante è che tutti avranno un pezzettino di me dentro di loro da ora in poi. C'è una porta chiusa e questa cosa non mi piace. Ora vediamo che cosa nascondevi. Marrano. Una Nuka Quantum. Ottimo. Questo sì che è ben accetta. E una cassaforte di livello 3 che purtroppo non posso ancora aprire. E questo armadietto invece è chiuso a chiave. Ottimo. Devo aumentare percezione e intelligenza. Se arrivo almeno a 8 in entrambi, penso di essere a posto. Vediamo i comandi invece. Fabbrichiamo un nuovo prodotto. In base al profilo gustativo di anticorpi umani sconosciuti mescolare con lo zucchero, anidride e carbonica, quelli potrebbero essere i consumatori target di questa bevanda. Dai 13 ai 18 direi di no. Dai 25 ai 35 ci potrebbe stare la gente che non ha voglia di ammalarsi e morire. Credo che sia il nostro target. Grazie per il tuo contributo. Tenendo conto di questo schema di colori, quale dovrebbe essere il nome di questa nuova bevanda? Nuka Cola vaccinata, Nuka Cola ardente, Nuka Cola con dentro il mio sangue. Allora, io la sceglierei questa. Però vado su Nuka Cola ardente. Mi sa più... Eh? Scusa, ma non posso fare a meno di immaginare come fosse lavorare qui. È stato cosa poi? È pazzesco. Eh sì, è bello, no? Andiamo a vedere la Nuka Cola ardente. Io avrei scelto però Nuka Cola con dentro il mio sangue, però... Cioè, mi sono immedesimato un attimo e pensavo ci fosse un nemico. E mi sono immaginato se uno dovesse prendere una Nuka Cola con scritto Nuka Cola con dentro il mio sangue. Non penso che la berrebbe. Nuka Cola ardente invece ci sta come nome, è accattivante. Dai, su. Iniziamo la produzione. Adesso ne spara fuori una sola. Poi è incredibile che dopo tutti questi anni questi macchinari ancora funzionino. Eh, pensavo uscissero di là io. Eccola qua. Ah, sei bottiglie? Nuka Cola ardente. Fatto! Liberazione dalla piaga. In bottiglia! Mentre tu distribuisci quelli, io comincio a organizzare le cose qui. Preparare un piano e produrne altri per chiunque ne avesse bisogno. D'accordo. Vediamoci a Saturn quando avrai finito. Va bene, sovraintendente. E ora è arrivato il momento di andare a fare quello che facevo in New Vegas. Ovvero il corriere e vado a distribuire delle lattine. No, in questo caso sono bottiglie. Allora, lo so benissimo che i progetti si trovano in giro, ma per 200 tappi vorrei comprare il progetto dell'arco. Mi faccio questo piccolo regalo. Vediamo anche se posso già craftarlo. Che poi io mi immagino l'arco composito, quello bello, figo. Ma sicuramente sarà tipo un arco fatto di legno e un pezzo di filo. E non posso neanche farlo. Però comunque l'arco è più bello di quanto mi aspettassi, devo dire. Mi mancano una e una sola vite. Va bene. No, non è vero. Perché se lo faccio di livello 25 mi serve ancora un alluminio e altri 4 di viti. Perché sono così carente di alluminio e viti io? Comunque, 65 di danno, mica male, anzi. Ho 141 frecce più quelle 16 e arriviamo a 157. Vabbè, oh, buttale via. Ehi là, testine di cazzo. Ringraziatemi perché vi ho portato da bere. Sei qui per consegnare il dovuto, 76? La pazienza non è il mio forte. Senti, Meg. Eh? E questo sarebbe il vaccino che ci hai promesso. Bottiglie di nuca. Ti conviene spiegarci, 76? Ci ho sputato dentro. Certo, puoi risparmiarmi i dettagli. Non vorrei che a usare tutti quei paroloni ti venisse un crampo al cervello. O perché tu non riesci a ridirle ai tuoi compagni, eh? Puoi finalmente respirare, 76. Ci si vede. Grazie. Salve, ho una consegna per Foundation. Chi mi firma il foglio? A volte mi... Stiamo ancora aspettando il vaccino che ci hai promesso. Dio mio, e vi tira tutto il controller in faccia adesso. Tieni. Cos'è? Nuca cola. Bella etichetta. E allora? E allora cosa? Bevi, te la scemo. Bevi la prima che ti spacchi la testa. Porca troia, che cattiveria. Ti hai carisma. Beh, hai fatto addirittura in modo che fosse facile da somministrare. Notevo. Hai visto? Sono bravo. Ancora non so cosa pensare veramente di te. Che sono una brava persona? Ma salvarci da questa piaga è un buon inizio. Abbi cura di te e dei tuoi compagni là fuori. Grazie Paige. Bel pensiero da parte tua. Che dire, sovraintendente. È stata un'avventura questa, no? Allora? Hai consegnato i vaccini. Sì, e ci ho pure sputtato dentro. È bello come comunque lui sia sarcasticamente stronzo. Senza il tuo aiuto? Sì, ce l'ho fatta. Prepareremo altri lotti nel caso in cui il primo non sia sufficiente. Va bene, mi sembra un'idea. So che stai facendo molto più di quello che avresti dovuto. E questo è vero. Assolutamente. Non credere che non me ne accorga. Eh, brava. Grazie. Prego. Ora che la crisi è scongiurata, dobbiamo metterci al lavoro su quel mistero tra le montagne. La sai l'ultima? È una battuta per caso? No, raccontami. Anche altri abitanti del 76 hanno scalato le montagne alla ricerca di questo tesoro di cui parlano tutti loro. Che si chiama One Piece? È un vault. Vault 79. Hmm. Chiuso. Senza apparente possibilità di entrare. Le fantasie su cosa contiene si sprecano. Oh, che bello, una caccia al tesoro. Non sappiamo come accedere, ma forse ho un piano per scoprire almeno cosa contiene. Perché siamo passati dalla missione salvatutti alla ricerca di un tesoro adesso? L'ala riservata, dove tutti i pezzi grossi tengono le loro riunioni. Tenevano forse. E non parlo solo di professori e assistenti Mr. Andy, ma intendo meeting con esponenti del governo, dell'esercito. Penso di esserci stato lì, tra l'altro. Sì, ci sono stato. Ma, allora, non so cosa abbiano pensato di scrivere qua, però hanno fatto risposta normale, risposta da pezzo di merda e risposta da amante della Voltec. Perché? Ho aspettato 25 anni, ma finalmente è giunto il momento di scoprire cosa nasconde. Ci vediamo là? Se proprio devo venire con te, allora sì. Leva per ruote. Danni doppi sulla salute del bersaglio al massimo. Wow. Ti sei sprecata, eh, con i regali oggi. Di livello 20 e fa 32 di danno. Wow. Ma cfigata. Questa qua è di livello 25 e fa 83. Pensa un po'. Bene. Un lanciamissili, come se già non fossi pesante di mio. Ciao. Grazie a tutti.